ragazzi buonasera a tutti voi benvenuti in questo nuovo video di zona zio giallorossa come vedete sono ancora un po' acciaccato fortunatamente oggi e domani riposo quindi poi domenica attacco la notte dove riuscire a recuperare diciamo le forze allora video di anteprima naturalmente del big match di stasera inter roma una partita molto molto attesa negli ultimi settimane visto che comunque l'inter è prima in classifica e la roma è diciamo quinta come dice la classifica ma quarta pari punti con il cagliari che ha un gol in più di differenza redi una partita ragazzi devo dire la verità io non credevo che a questo punto del campionato sia l'inter che la roma si potessero trovare in questa situazione di classifica che l'inter di conte sarebbe stata una con una squadra competitiva compatta e che avrebbe giocato un buon calcio lo si sapeva ma diciamo che trovarla prima in classifica sopra la juventus sinceramente penso che neanche il più roseo ottimista tifoso dell'inter avrebbe pronosticato però la squadra di conte sta giocando un buon calcio si merita il posto in classifica la roma dal canto suo dopo un inizio un po diciamo col freno tirato più che altro perché venivamo da una stagione veramente tribolata nuovo allenatore nuovi giocatori nuovo progetto abbiamo avuto magari un po di partite forse il primo mese di rodaggio per poi assimilare sia gli schemi che soprattutto la mentalità e l'atteggiamento che ha dato fonseca a questa squadra perché ragazzi io sono veramente contento di vedere una roma prima di tutto che lotta per il suo obiettivo stagionale che è il quarto posto la champions league ma soprattutto vedo una squadra che specialmente nel periodo in cui aveva dieci giocatori fuori ha tirato fuori veramente l'orgoglio la grinta il sacrificio e portare a casa certe partite per quella con il milano e con il napoli che per me valgono doppio sono sereno per questa sera perché non è assolutamente una partita decisiva né per l'inter né per la roma non è neanche finito il giro nell'andata è una partita che può dare indicazioni ottime ad entrambe le squadre se dovessero vincere perché l'inter andrebbe addirittura più 4 sulla juve prima di l'azio juventus di domani e la roma comunque farebbe un gran colpaccio vincendo a san siro e portandosi comunque momentaneamente al terzo posto per cui è una partita che conta ma è anche una partita ve lo dico in modo abbastanza sincero non vedo un dramma se questa sera la roma dovesse perdere a san siro io sono contento assolutamente di una cosa che la roma comunque vada come sta facendo da questo inizio di campionato darà tutto in campo quindi poi vinca il migliore ce la possiamo assolutamente giocare però è chiaro che perdere a san siro ci può stare e comunque non perderemo troppi punti dal nostro obiettivo l'importante come dico sempre dare tutto in campo correre dall'inizio alla fine cercare di fare il meglio che si può fare poi il risultato lo dice il campo queste partite di solito a meno che non ci sia una giornata storta di una delle due squadre vengono diciamo risolte da episodio da giocate individuali per come la vedo io come è successo praticamente in inter juventus io penso che verrà fuori comunque una buona partita che sarà equilibrata e vedo leggermente visto che gioca in casa favorita l'inter diciamo un 55 45 un pareggio anche non sarebbe male a questo punto visto che stai giochi sempre a san siro per quanto riguarda la formazione della roma ragazzi ultime notizie paolo pez sembra in forze quindi in quel punto se non dovesse farcela dovrebbe giocare mirante che ha recuperato dall'infortunio a destra c'è il ballottaggio santon spinazzola al centro smalling e mancini a sinistra color i mediani sono contati ragazzi quindi giocheranno vere du e diavara il trio d'attacco dovrebbe essere zagnolo a destra pellegrini al centro e michitarian a sinistra a meno che non trovi posto under magari spostando a sinistra zagnolo e facendolo giocare a destra ma non credo potrebbe anche esserci dall'inizio magari perotti e poi far subentrare dal partita in corso michitarian che è rientrato domenica a verona facendo un ottimo un ottimo rientro davanti zeko sembra aver smaltito la febbre anche se rimane in dubbio fino all'ultimo in quel caso dovrebbe aver recuperato kalinic altrimenti ci sarà praticamente uno zagnolo falso 9 davanti a quel punto andressa a destra andrebbe under centro pellegrini a sinistra 1 famiglia rana e perotti la partita iniziale 20 e 30 ragazzi non credo che farò il video subito questa sera a caldo sia se vinciamo sia se perdiamo perché comunque voglio prendermi magari la nottata per dormirci sopra e fare magari un video domani più diciamo calmo e tranquillo per valutare meglio l'incontro farò le pagelle quindi per adesso ragazzi godiamoci la partita che vinca il migliore saluto i miei amici interisti del mio gruppo whatsapp che anche loro sono in trepidazione vi auguro buona sorata e soprattutto iscrivetevi al canale commentate tanti like e soprattutto soprattutto forza forza roma grazie a tutti